Io quello che ho visto e ho sentito in primo luogo era che è arrivata la polizia, è arrivata con le solite lampeggianti, la sirena, tutte queste cose, sono arrivate due volanti, una dietro l'altra e dopo poco tempo, non so quantificarlo, è arrivata anche l'ambulanza. Ancora un episodio di sangue ad Arezzo, un uomo accoltellato che è stato poi soccorso qui in piazza Sant'Agostino ma sembra che l'aggressione non sia avvenuta in questa zona, ovviamente è tutto al vaglio delle forze dell'ordine. L'uomo è stato ritrovato sanguinante in piazza Sant'Agostino sotto gli occhi della folla, in quel momento mancavano pochi minuti alla mezzanotte, la piazza era piena. La piazza era gremita, piena di gente, per questo come dicono tanti è molto probabile che lui non sia stato aggredito qui perché se no la gente l'avrebbe visto sicuramente. Soccorso dal 118 è stato trasportato al pronto soccorso, aveva ferite al volto compatibili con quelle procurate da una bottiglia di vetro rotta. Ha dato poi in escandescenze anche all'ospedale dove è stato necessario l'intervento della polizia. Sicuri non tanto, anche perché non è la prima volta che succedono questi disastri tra bottiglie spaccate, risse, anche qua davanti, quindi sono successe veramente tante. Le forze dell'ordine girano, passano? Passano quando è successa la cosa, quando non ci sono dovrebbero stare secondo me un po' più fissi e salvaguardare un po' la piazza. Quella appena trascorsa è stata una notte molto agitata ad Arezzo, si sarebbe infatti scatenata anche una violenta rissa tra via Guido Monaco e i giardini del Porcinai, la stessa zona in cui nelle scorse settimane si erano verificati numerosi episodi di cronaca. La polizia alla fine ha arrestato uno dei protagonisti degli scontri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I commercianti di piazza Sant'Agostino e non solo, però, non si arrendono a vedere la loro città così trasformata. Ora, purtroppo ci sono dei casi in questa maniera estremi di gente che purtroppo ha problemi, ha problemi e dopo provoca problemi. Ci vuole pazienza ma ci vuole anche un intervento un pochino più mirato, penso, e anche rigido. Io spero e mi auguro di tornare ai bei tempi, che la piazza si merita, che tra l'altro è bellissima e ci si sta bene.